Shalom, Shalom, Shalom. Eccoci qui con un'altra lezione delle serie del libro di Apocalisse e oggi tratteremo il libro di Apocalisse capitolo 12. E prima di iniziare voglio ringraziare e dare tutti i lodi dovuto al Padre Onnipotente, Yahawa, nel nome di suo figlio e nostro re salvatore e rendentore, Yahawa Shai, colui che in mondo dell'ignoranza chiama Gesù. E i miei doppi onori agli apostoli e anziani della Great Mewstompe avermi insegnato questa verità che è la verità pura al 100% e i miei saluti ai eletti della Casa di Israele, a coloro che stanno lavorando nella vigna questi ultimi giorni, la vigna rappresentando la terra e a coloro che stanno cercando con sincerità questa verità. I miei saluti. Ora iniziamo leggendo, sì, dal stesso libro proprio, libro di Apocalisse che si chiama anche Rivelazione. E voglio ribadire per capire meglio queste serie, perché ce ne sono delle cose che non andrò ad approfondire, perché sono già nei video precedenti. Vi consiglio di guardare sulla playlist che ho creato, che è la playlist con il titolo del libro di Apocalisse e vedrete tutte le spiegazioni di tutto il libro dell'Apocalisse che ho fatto già in precedente. Abbiamo fatto il 10, abbiamo fatto 8, 7, 6, perciò per capirne di più, anche 9. Per capire di più andate a vedere con la cronologia lì. Eccoci qui, iniziamo e voglio prendere una traduzione un po' meno difficile da capire. Prendiamo questa e iniziamo leggendo. Poi un grande segno apparve nel cielo, una donna rivestita del sole, con la luna sotto i piedi e una corona di 12 stelle sul capo. Era incinta e gridava per le doglie e il travaglio del pato. E questa donna che sta parlando rappresenta Israele in sé, ok? Anzi, la donna rappresenta la madre del nostro Salvatore, la così chiamata Maria, ok? E le 12 stelle rappresentano le 12 tribù, ok? Le 12 tribù di Israele, ok? Per darvi un precetto su queste 12 tribù, per farvi capire che sono... Sto parlando delle 12 tribù di Israele, andiamo a vedere dal libro di Genesi. Capitolo 37, versetto 9, che dice Egli fece un altro sogno e lo raccontò ai suoi fratelli dicendo Ho fatto un altro sogno, il sole, la luna e 11 stelle si inchienavano davanti a me. E questo è il sogno che ha fatto Giuseppe, ok? E ecco qui, qui vedete 11 perché mancava lui che compieva i 12. Perciò le stelle rappresentano le 12 tribù di Israele, ma non sempre, ok? Ma in questo racconto rappresenta proprio le 12 tribù. Ora torniamo, ok? Andiamo avanti E sì, era incinta e gridava per le doglie e i travagli del parto. Qui vediamo il racconto nel libro di Matteo Capitolo 2 E Yahweh Shai era nato in Bethlehema di Giudea all'epoca del re Erode, ok? Anzi andate a leggere tutto il resto, ok? Per farvi capire, questa è la nascita del nostro Salvatore, Yahweh Shai Perciò sto facendo vedere giusto per farvi capire, ok? Era incinta e gridava per le doglie e i travagli del parto Apparvi ancora un altro segno nel cielo ed ecco un gran dragone rosso Che aveva sette teste e dieci corne e sulle teste sette diademi Questo sta parlando dei figli dei malvagi Esau, ok? Rappresentato come gli imperi romani, ok? E infatti se andiamo a leggere qui Anzi, facciamo passo a passo Ok? Questo rappresenta l'antica romana, ok? Impero romano E in quella era c'erano gli eroditi, ok? Quelli che erano in potere erano gli eroditi E sapete la storia bene Quando si nasceva Yahweh Shai L'eroe fece sì che voleva ammazzare Yahweh Shai Infatti, anzi, andiamo a leggere velocemente Così Capitolo 2 avevo detto Yahweh Shai era nato in Betema di Giudea all'epoca dell'eroe, ok? E i maghi d'Oriente arrivano a Gerusalemme dicendo Dov'è il re dei Giudei che è nato? Poiché noi abbiamo visto la sua stella in Oriente E siamo venuti per adorarlo Questa stella che parlano Era una navicella UFO I così chiamati UFO Quelli che vediamo di notte muovere tipo la luce Era quello che si rappresentava E a quell'epoca sapevano che i figli di Israele avevano i cari Ok? Che erano i UFO Per capirne di più basta andare a vedere i video che ho fatto Già andate a guardare la serie dall'inizio Ok? E sì Ho detto questo Il re Erode fu turbato E tutta Gerusalemme con lui Ok? Riuniti tutti i capi dei sacerdoti e iscrivi del popolo Si informò Da loro dove Yahweh Shai doveva nascere Essi li disero in Betema di Giudea Poiché così è stato scritto per mezzo del profeta Ok? E dice qui che Erode fu turbato e tutta Gerusalemme con lui Perché Erode era il governatore romano Che governava sulla Giudea Ok? E ricordatevi che Giudea era abitato da solamente tre tribù Che erano i miei figli di Giudea I figli di Beniamino E i Leviti Ok? E tutte le altre tribù erano portate In schiavitù Sono coloro che sono diventati gentali Sono stati portati dal re degli assiri In schiavitù in altre nazioni In altri paesi Che tanti sono diventati parte dell'esercito romano Sono sparsi dappertutto Ok? Perciò qui loro Questi Giudei Non è che seguivano le cose Gli andava bene Basta andare a leggere il libro di Re Il primo Re Mi sa da capitolo 6 più o meno Anzi leggere tutto Per capire la storia Sono diventati cattivi Perché non facevano le cose Proprio come era comandato Ok? E non volevano Che venissero Un altro re Il re vero Che sarebbe i figli dei padri A governare su loro Questo non volevano Ok? Essi gli dissero In Betlema di Giudea Perché così è stato scritto Per mezzo del profeta E tu Betlema E tu Betlema A terra di Giudea Non sei affatto La minima Fra le città principali di Giudea Perché da te Uscirà un principe Che nasce Perché passerà Il mio popolo Israele Ok? Allora Erode Erode chiamati Di nascosto I maghi Si informò esattamente Da loro Del tempo In cui La stella era passa E mandandoli A Betlema Disse loro Andate E chiedete informazioni precise Sul bambino E quando lo avrete trovato Fatemelo sapere Affinché Anch'io vada Ad adorarlo E se dunque Udito I re Partirono E La stella Che avevano visto In Oriente Andava Davanti a loro Finché giunta Al luogo Dove Era il bambino Ok? Vi ricordo La stella E' una navicella Ufo Ok? Vi si fermò Sopra Ok? Quando videro La stella Si rallegrarono Di grandissima gioia Entrati nella casa Videro Il bambino Con Maria Ok? Sua madre Prostrati Lo adorarono Lo adorarono E aperti I loro tesori Gli offrirono Dei doni Oro Incensio E mira Poi Avertiti In sogno Di Non Ripassare Da Erode Tornarono Al loro paese Per un'altra via Perciò Hanno fatto Hanno preso in giro I governatori Erode Che gli aveva detto Perché Hanno avuto Un sogno Sono stati Avvertiti Da sogno Di non tornare Ad Erode Erode Infatti Il suo motivo Era quello Di uccidere Il bambino Non è per Andargli A portare Un regalo Fuga in Egitto Dopo che furono Partiti Un angelo Del signore Yahawa Apparve In sogno Giuseppe E gli disse Alzati Prendi Il bambino E sua madre Fuggi in Egitto E restaci Finché Io non te lo dico Perché Erode Sta per Cercare il bambino Per farlo morire Ok Egli dunque Si alzò Prese di notte Il bambino E sua madre E si ritirò In Egitto Là Rimase Fino Alla morte Di Erode Affinché Si arrempisse Quello che fu Detto Dal signore Per mezzo Del profeta Allora Torniamo Nel libro Di Apocalisse Così Vi ho fatto Il racconto Giusto Così Quando inizio A spiegare Certe cose Lo sapete Già Ok Inizio Dal capo Poi Un grande Segno Parve Nel cielo Una donna Rivestita Del sole Con la Con la luna Sotto i piedi Ok E una corona Di 12 stelle Sul capo Era incinta E gridava Per le doglie E il travaglio Del patto La donna Che stava Parlando È La madre Di Yahawashai Ok Le 12 stelle Sono le 12 tribù Ok Era incinta Di Yahawashai Il salvatore Apparve Ancora Un altro Segno Nel cielo Ed ecco Un gran dragone Rosso Che aveva Sette teste E dieci corne E sulle teste Sette diademi Ok Questo dragone Rosso Rappresenta La stirpe Dei malvagi Infatti Per capirne di più Andate a vedere Il video Che ho fatto Sui malvagi Questo rappresenta Esau 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 è uscito Rosso Ok Che aveva Sette teste E dieci corne E sulle teste Sette diademi Ok La sua coda Trascinava La terza parte Delle stelle Del cielo E lo scagliò Sulla terra E questo Sto parlando Di quando I romani Sono andati A conquistare Gerusalemme Ok Sto parlando Di tre stelle Perché a Gerusalemme Era occupato Da Giuda Beniamino E i leviti Ma popolato Molto di più Dai giudei Beniamino Era Non erano tantissimi I leviti Erano quelli scappati Da Dal regno Di Israele Perché Non c'era giustizia Ok E il tempio Si trovava In giudea Ok Perciò Sta parlando Questo racconto Basta andare a leggere Sul libro Di primore Ok Andiamo avanti La sua coda Trascinava L'altezza Parte Delle stelle Dal cielo E lo scagliò Sulla terra Perciò Questi sono I romani Quando sono andati A conquistare A derubare A distruggere Gerusalemme Il dragone Si pose davanti Alla donna Che stava Anzi Vi ho spiegato Prima Che il libro Di Apocalisse Ci vuole Lo spirito Davvero Per capirlo Perché Non Cioè Non segue Il tempo Tutto Cronologicamente Com'è Si capisce Dallo spirito E noi Abbiamo imparato Dai nostri Apostoli Della Great New Stone Che ci hanno Insegnato Queste cose Qui E soprattutto I padri Ci ha versato Lo spirito Per farci capire Ok Perciò Perciò Il libro Il libro Di Apocalisse Giovanni Vedeva La visione Vedeva Diversi tempi Ok E lui Lo raccontava Come Li veneva Ok Perciò Si parlava Di tempo Distante Tempo Dietro Cioè Non aveva Una cronologia Perfetta Ok Si capisce Dallo spirito Ecco Perché Il libro È rimasto Là E nelle mani Di coloro Che Senza lo spirito Non lo possono Capire Ecco Andiamo Avanti Il dragone Si pose davanti La dona Che stava Per partorire Per divorare Il figlio Non appena Lo avesse Partorito E questo Sta parlando Del racconto Che abbiamo Appena letto Che era Il governatore Erode Che voleva Ammazzare Yahawaschai Ok Il figlio Di Maria E Giuseppe Ed è La partorire Un figlio Maschio Che è Il salvatore Yahawaschai Il quale Deve Reggere Tutte le nazioni Con una Verga Di ferro Ok E questo Sta parlando Di regno Che sta Per avvenire Che questo Regno Che sta Per avvenire Sarà guidato Da questo figlio Che è Yahawaschai Colui Che in mondo Dall'ignoranza Chiama Gesù Ok E lui Reggerà Tutte le nazioni Con una Verga Di ferro Che vuol dire Saranno Tutti sotto Tutti sotto Il comando Suo Ok Dopo di lui Ci saranno Ok I suoi eletti 144 eletti Noi stiamo pregando Stiamo sperando Facendo Osevando i comandamenti Al meglio Della nostra capacità Per fare parte Di questi numeri Qua Ok Andiamo avanti E il figlio Di lei Fu rapito Vicino A Dio Yahawah E al suo trono Questo Sta parlando Di quando è stato Crucifisso Ok Lei Per quando è stato Crucifisso E tornato A Yahawah Al trono Ok Ma la donna Fuggì Nel deserto Dove ha un luogo Preparato Da Yahawah Per esservi Nutriti Per 1270 Sessanta 1270 Giorni Ok E questo Sta parlando Di quando Maria È sfuggito In Africa Ok Si Sta parlando Di quando Maria È fuggito In Africa Ok Quando Scusatemi Quando sono Fuggiti In Africa I figli Di I figli Di Coso Si Parla Di quando Sono stati Fuggiti In Egitto Uno E parla Anche Quando Sono stati Mandati In Africa Ok Dopo La conquista Di Gerusalemme Che sono Fuggiti Alcuni Sono fuggiti In Europa E altri 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 Tanti Sono fuggiti In Africa È quello Che sta Parlando Ok E ci fu Una battaglia Nel cielo Ok Questo Sta parlando Del futuro Ok Perciò Non è Tutte le pazzie Che parlano La chiesa Che Questo Parla Questo Sta parlando Di un futuro Che deve Ancora Succedere Ok E questo Fa parte Dell'artezza Guerra Mondiale Ok Perciò Se guardate Adesso Vedete Che stanno Creando Un esercito Spaziale Anzi Hanno Creato Gli americani Assieme Con 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 I russi E E Sappiamo Che c'è In mezzo Sempre Nato Che sono Le dieci Corna Del Dragone Ok Sono I paesi Europei Ok All'inizio Della Costituzione Nel Nato Erano Dieci Ok E poi Dopo Poi Dopo Si sono Giunti Altri Paesi Ok E Dice E ci fu Una battaglia Nel cielo Michele E i suoi angeli Combatterono Contro Il dragone Il dragone E i suoi angeli Combatterono Ma non vinsero E per loro Non ci fu Più posto Nel cielo Il grande dragone Il serpente Antico Che è chiamato Diavolo E Satana I sedutori Di tutto il mondo Fu gettato Giù Fu gettato Sulla terra E con lui Furono gettati Anche i suoi angeli Ok E questo Sta parlando Del futuro E sta parlando Anche del passato Ok Parla del futuro Perché Questa battaglia Succederà Nel futuro Ok Questa battaglia Succederà Nel futuro Quando Torneranno I navicelli Del padre Infatti Tutti L'esercito Spaziale Che stanno Creando E per fermare Questi navicelli E così Chiamati UFO Ok Infatti Mi è arrivata Una notifica Subito Che dice Esau Knows That The UFOs Are Spoken About In the Bible Che dice Che Esau Sa Che UFOs Sono Parlati Nella Bibbia Anzi Infatti Noi stiamo Parlando Degli UFO Ok Perciò Esau Sa Che UFOs Sono Parlati Nella Bibbia Ecco Perché Crea Tutti I suoi Esercito Spaziale Ha creato Anche La CERN C Como Empoli Rimini Napoli Scrivetelo E fate un po' di ricerca Fatto In Svizzera Ok Perciò Ci fu Una battaglia Hanno Tentato Di Combattere Contro E Michele Verrà giù Con Yahawas Shai Il figlio Del padre Al suo Ritorno Anzi Andiamo Velocemente A vedere Dal libro Di Daniele Perdonatemi Un attimo Ok Dal libro Di Daniele Daniele Capitolo 12 Versetto Subito 1 In quel tempo Sorgerà Michele Il grande Capo Il difensore Dei figli Del tuo Popolo Vi sarà Un tempo Di angoscia Come Non ce ne fu Mai Da quando Sorgerò Le nazioni Fino A quel Tempo In quel Tempo Il tuo Popolo Sarà Salvato Cioè Tutti Quelli Che Saranno Trovati Iscritti Nel Libro Ok Ok Perciò Sta parlando Dei tempi Che stanno Per arrivare Adesso Perché Saranno Tempi Davvero Durissimi Ok Come Stiamo Vedendo Con Questo Con Questo Crown Royale 19 Non voglio Dire Non voglio Dire La parola Sì Uso La parola Crown Royale Se no Mi blocca Nel canale Avete Già Capito Di che Cosa Sto Parlando Vi Hanno Preparato I Veleni Da Iniettarvi Ok Chi Non Lo Prende Tra poco Diventerà Obbligatorio Si Chiama Gradualismo Passo a Volta Diventerà Obbligatorio Perciò Diranno Che se Non lo Prendi Non puoi Lavorare E saranno Tempi Davvero Durissimi Che Tanti Saranno Sedotti A Prenderlo E Altri Tanti Non lo Prenderanno E Quelli Che Non lo Prenderanno Non sarà Facile Per Loro Ok E Questi Sono Coloro Che Conoscono Questa Verità E Tengono Ci Tengono A Questa Verità Poi Dopo Quello Avverà Il Marchio Microchip Ok Saranno Tempi Come Mai Prima Ok E Ritornerà Il figlio Del padre Yahawashaya A salvarci Assieme Verrà Con Michele Ok Come Vedete Qui E Cosa Succederà Vinceranno Contro Il dragone Il dragone Rosso Che Sono I figli Dei Malvagi Così Chiamati Caucazu Sono Loro Che Stanno Governando Questo regno Ok Questo regno È diviso In In tre Ok Hanno Il potere Il potere Politico Il potere No Il potere Religioso È È In Vaticano Nel Vaticano Il potere Finanziario È In Inghilterra È Il potere Politico È In America Ok Perciò Andiamo Avanti Il Gran Dragone Serpente Antico Che È Chiamato Diavolo Satana Seduttore De Tutto Mondo Fu Gettato Giù Fu Gettato Sulla Terra E Con Lui Furono Gettati Anche I Suoi Angeli Allora Udì Una Gran Voce Nel Cielo Che Diceva Che Diceva Ora È Venuta La Salvezza E La Potenza Il Regno Del Nostro Potere Yahweh È Il Potere Del Suo Unto Yahweh Shai Perché È Stato Gettato Giù L'accusatore Dei Nostri Fratelli Col Lui Che Giorno E Notte Li Accusava Davanti Al Nostro Potere Perciò Questo È Molto Profondo Ma Non Vado Non Vado A Toccare Il Punto Che Mi È Venuto Perché Sennò Per Non Confondere Alcuni Che Non Conoscono Bene Questa Verità Qui Ok Perciò Qui Sta Parlando La Salvezza Infatti Arriverà Dopo Che I Figli E Padre Assieme A Michele I Suoi Angeli Vinceranno Contro L'esercito Ok L'esercito Dei Malvagi Ok Esercito Di America Russia E Tutti Quelli Là Ok Perché Si Stanno Preparando Anzi Per La Guerra La Terza Guerra Mondiale Nella Valle Di Ja Osafat Ok Succederà Anzi Anzi No Mi sa che Ho saltato Qualcosa Qui Scusatemi Anzi L'Agne Agnello Uno che dice Poi Parliamo Del Tempo Di Medioevo Ok Perché Erano I mori Che sono I figli Di Israele Erano Loro A governare A quell'epoca I figli Dei malvagi Erano Spiritualmente Legati Non potevano Andare In potere Ok Infatti I mori Hanno Governato Per circa Mille anni Ok E Lo gettò Nell'abisso Abisso E Europa Che Chiuse Andate a vedere I video Che ho fatto Che vi farà Sapere Che Chiuse E sigillò Sopra di lui Perché Non seducesse Più Le nazioni Affinché Fossero Compiuti Mille anni Dopo I quali Dovrà essere Sciolto Per un po' Di tempo Ok Perciò Per farvi Capire Meglio Sta Parlando Di quello Torniamo Ok Sta Parlando Del passato Ma Questo Sta Parlando Della Fine Ok Ok Il dragone Il dragone I suoi angeli Combatterono Ma Non vinsero E Per loro Non ci Fu Più Posto Nel cielo Ok Avete Capito Questo Per farvi Sapere Che Anche I malvagi Sono La verità Ma Essi Lo hanno Vinto Per mezzo Del sangue Dell'agnello E con La parola Della loro Testimonianza E non Hanno Amato La loro Vita Anzi Hanno Esposto Alla Morte Ok Perciò C'è la scrittura Che dice Matteo Capitolo 16 Versetto 25 Colui Che Salve Cerca Di Anzi Andiamolo A vedere Subito Matteo 16 Versetto 25 Perché Chi vorrà salvare La sua vita La perderà Ma Chi avrà perduto La sua vita Per causa mia La troverà Queste sono Le parole Del figlio Del padre Yahawashai Perciò Coloro Che cercheranno Di salvare La loro vita Tra i momenti Che stanno arrivando Coloro Che non vorranno Perdere il lavoro Che vorranno Mantenere Il benessere Il benessere Falso Finto In questo Questo regno Deceduto Saranno Coloro Che cercheranno Di salvare La loro vita Ma coloro Che conoscono La verità Che sperano Che avvenga Questo nuovo regno Non se ne sbattono Nulla Che Questo regno Qui Non Non vanno Dietro Carriere O chissà cosa Perciò Per loro Non gliene frega Niente Questa gente Sono loro Che saranno Salvati Ok Andiamo avanti Versetto 12 Perciò Perciò Rallegratevi O uccelli O uccelli E voi Che abitate In essi Guai a voi O terra O mare Perché il diavolo È sceso Verso di voi Con gran furore Sapendo Di aver poco tempo Ed è quello che sta succedendo Adesso Adesso cercheranno Di forzare Di forzaccia A prendere Questo crown royale 1-9 Per forza Ok Questo veleno Ci forzeranno A prenderlo Stanno venendo Con diverse Menzogne In tv Non ho trovato Un altro tipo Ok Diverse Diverse calunie Ok Fanno tutto Un gran lavaggio Di cervello Ci vuole lo spirito Per capire Ok Perciò Non cadetevi Non cadetevi Vi prego Non cadetevi Cercate il padre Che il suo nome È Yahweh Il nome del suo figlio È Yahweh Shai E venite fuori Dalle pazzie Di questo mondo Qui Questo mondo Questo regno Verrà distrutto Ok Andiamo avanti Quando il dragone Si vide Precipitato Sulla terra Perseguito La donna Che aveva Pattorito Il figlio Maschi Ecco perché Vi dicevo Che questo libro Parla di un tempo E torna dietro E va avanti E torna dietro Qui ora Sta parlando Dell'era 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 Di schiavitù Ok Sta parlando Dell'era Di schiavitù Quando il dragone Si vide Precipitato Sulla terra Perseguitò Perseguitò La donna Che aveva Pattorito Il figlio Maschio Ok Quando sono Ritornati In potere Ok E i figli Dei malvagi Nei tempi Di rinascimento La prima cosa Che sono andati A fare A parte Cambiare La faccia Dei giudici Che sono I veri Figli D'Israele Hanno cambiato Hanno dipinto Ridipinto Tutto Sono andati Subito In Africa Ok Dove I figli D'Israele Sono sfuggiti Sono andati A prendere Gli schiavi Ok Quando il dragone Si vide Precipitato Sulla terra Perseguitò La donna Che aveva Pattorito Il figlio Maschio Ma alla donna Furono date Le due ali Della grande Aquila Affinché Se ne volasse Nel deserto Nel suo luogo Dove Dove Nutrito Per un tempo Dei tempi E la metà Di un tempo Lontana Dalla Presenza Del sempente Ok Anzi Non lontana Vediamo Un'altra Versione Qui Allora E quando il dragone Si vide Gettato Sulla terra Perseguitò La donna Che aveva Pattorito Il figliuolo Maschio Ma alla donna Furono date Le due ali Della grande Aquila Affinché Se ne volasse Nel deserto Nel suo luogo Dove Nutrito Un tempo Dei tempi E la metà Di un tempo Lunghi Dalla presenza Del serpente Del serpente Questo Sta parlando Stà parlando Del tempo Di schiavitù Quando sono stati portati In America Ok Le ali Quando sono stati portati In America In diverse parti Dell'Europa I figli D'Israele Quando sono stati Sono stati Mandati Al sud Italia Concentrati Là Quando hanno Ammazzato I Ultimi Il re Mori Quando hanno fatto Tutte queste Calunie Sta parlando Qui Ok Il serpente Gettò Dalla sua bocca Dietro Alla donna Dell'acqua E guisa Di fume Per far portare Via Dalla fiumana Ok E questo Sta parlando Di tutti I suoi Tutti i suoi Menzogne Filosofie Hanno cercato Di cambiarci Tutto Hanno riscritto Tutto Che siamo Creati Se siamo Veniamo Dalle scimmie Hanno scritto Diverse cose Ci hanno fatto I lavaggi Di cervello Nelle loro Scuole Hanno fatto Di tutto Ed è quello Che sta parlando Di questo Fiume Qui Ok Ma la terra Scosse La donna E la terra Aprì la bocca E i ghiotti Il fiume Che il dragone Aveva gettato Fuori Dalla propria Bocca E questo Sta parlando Delle scoperte Archeologiche Che hanno Riportato A vita Tanta Di questa Verità Qui Perché Senza Queste scoperte Non avremmo Nemmeno Riuscito A capire Il vero nome Del padre Ok E la lingua Che si parlava In quel tempo Perché Ci hanno Ci hanno Proprio fatto Un bel lavaggio Di cervello Ok Quello È la Meshech Stile Una scritta Trovata Ok Che è Dei re Dei Moabiti Cinesi Che parlava Di quando Aveva vinto Contro I re Di Israele E qui C'è il nome Del padre Yahawa Il re Dei figli Di Israele E lui Si Si vantavano Che aveva Vinto Contro Israele E questo È solo Per dirvi Uno C'è anche La scoperta Dell'arca Di Noè C'è la scoperta Della mura Di Gerico Diverse scoperte Ed è quello Che sta Parlando Qui Ma la terra Scosse La dona E la terra Apri la sua bocca E inghiotti Il fiume Che il dragone Aveva gettato Fuori Dalla propria Bocca E il dragone Si aderò Contro La dona E andò A fare Guerra Con il rimanente Della progenie Dessa Che serva Comandamenti Di Yahweh E ritiene La testimonianza Di Yahweh E si fermò Sulla riva Del mare Ok Io Questo sta Parlando Di Di noi Oggi Ok Perché noi Siamo perseguitati Ok Tra poco Cominceremo Ad essere I nuovi Terroristi Perché parliamo Della verità Già ci avevano Classificato Come quello Nel tempo passato Perciò Spero che Siete riusciti A capire Questa spiegazione Del libro Di Apocalisse Ci vuole lo spirito Per capirlo E Sì Non è una verità Per tutti Saranno pochi A riuscirlo A capire Se uno Non cerca Il padre Con Sincerità Con tutta la volontà Soprattutto Se non sei stato scelto Per sapere Questa verità Non c'è nulla Che uno può fare Per capirlo Ok Perciò Voglio lasciare Tutto questo Nel sacro Nome del padre Yehawah Nel nome di suo figlio Yehawah Shai Nostro re Salvatore Renentore Miei doppi onori Agli apostoli E anziani Della Great Meuston Per avermi insegnato Questa verità E pace E saluti Alla casa di Israele Alla prossima Shalom Shalom